Sono arrivati i primi assaggi di inverno e subito è scattata l'emergenza freddo. Al rifugio Segadelli, vicino alla stazione ferroviaria, gli otto posti letto sono già insufficienti. I cancelli dovrebbero aprire alle otto di sera, ma i potenziali ospiti sanno che spesso verso le sei e mezza sono già aperti e quindi si mettono in coda per accaparrarsi un posto. Sarà un altro inverno molto freddo e lungo e le persone che vengono in strada naturalmente hanno delle grosse difficoltà. Sono sia italiani che stranieri, l'unica differenza è sull'età. Gli italiani sono più o meno intorno ai 45 anni, gli stranieri sui 30. Adesso ci sono anche molti lavoratori della logistica che in attesa di percepire il primo stipendio cercano un posto dove dormire e poi persone con problemi di salute. Noi abbiamo sempre tutto esaurito in questa struttura che è del Comune di Piacenza che noi gestiamo come associazione la Ronda della Carità. Un problema reale la carenza di posti letto perché l'ospitalità offerta dal rifugio Segadelli e dalla Caritas non bastano. Sicuramente servirebbero più posti, più accoglienza. Per il momento facciamo quello che possiamo distribuendo coperte, sacchi a pelo, di verno facendo anche fare una doccia calda ristoratrice e magari mangiare anche qualcosa. Il Segadelli è dotato di lavatrice, asciugatrice e di un deposito di vestiti per le emergenze. Molti ospiti arrivano in condizioni critiche e hanno bisogno di biancheria, altri chiedono un cappotto pesante o delle scarpe. Noi non ci facciamo trovare impreparati, spiega Bonadè. Infatti già dall'autunno i volontari iniziano a raccogliere materiali, abiti, coperte, sacchi a pelo, donati dai piacentini e per il momento non manca nulla.